Ben ritrovati. Ben ritrovati, ancora una volta siamo insieme a una persona che rappresenta veramente una vita dedicata alla cultura del nostro paese, siamo con Rosanna Cappelli che è amministratore delegato di Electa Mondadori, Electa è una casa editrice fondata subito dopo la seconda guerra mondiale e che è stata molto importante per mostre, per attività editoriali dedicate al patrimonio artistico-culturale. La dottoressa Cappelli ha seguito questa carriera prima come libera professionista fino a diventare organica all'azienda e a diventarne l'amministratore delegato. Ecco, la prima domanda che faccio in queste circostanze è come ci si è avvicinati, come lei si è avvicinata alla vita culturale e artistica del patrimonio, con gli studi, magari con la famiglia o con le passioni personali e come pian piano si diventa Rosanna Cappelli, si diventa una figura di guida di un'impresa così importante. Io mi sono laureata a Perugia in discipline archeologiche e quindi il mio primo lavoro è stato il trasferimento a Roma ad occuparmi del progetto del Museo Nazionale Romano sotto la guida di Adriano Lerigina che è stato un grande sovrintendente all'antichità di Roma per oltre vent'anni e che è stato il mio primo maestro vero della prassi, cioè dell'applicazione della disciplina archeologica al lavoro vero e proprio. Ho continuato poi a lavorare nell'ambito dell'archeologia ma già all'epoca si iniziava a parlare dell'ingresso dei privati nel mondo della gestione, della valorizzazione del patrimonio e naturalmente c'era una dicotomia nella critica, nell'approccio al ruolo dei privati, quindi chi considerava i privati salvatori che finalmente sarebbe valorizzato il patrimonio culturale e chi invece demonizzava ovviamente questo ingresso. Avendo, credo per merito di mia madre, una natura piuttosto pratica, ero molto interessata a che poi questi progetti di studio, di ricerca del settore archeologico potessero avere un'applicazione immediata, potessero tradursi immediatamente in concretezza e quindi sono entrata in contatto con Paolo Leon, l'economista della cultura. Ho lavorato per alcuni anni al CLESS proprio per cercare di imparare di conto perché avevo probabilmente capito, anche se non ero perfettamente consapevole, che l'economia e comunque la conoscenza di alcuni principi dell'economia potessero soccorrermi e potessero aprirmi nuove strade. Questa è una bella coincidenza, anche io ho avuto la fortuna di conoscere Paolo Leon e anche io devo dire quando a 30 anni ho preso una dirigenza culturale ho considerato molto importante capire l'aspetto di sviluppo economico che la cultura poteva portare al territorio. Quando poi è stata inaugurata la stagione della legge Ronchei e quindi i cosiddetti privati sono effettivamente entrati in questo mondo della gestione del patrimonio per quanto concerne i servizi aggiuntivi e quindi le prime attività commerciali, le prime attività offerte al pubblico a pagamento, ELECTA ha vinto la gara del Colosseo del Foro Romano, del Palatino del Museo Nazionale Romano, cioè la gara della soprintendenza archeologica di Roma. E quindi mi ha offerto una consulenza di tipo però ancora archeologico, quindi non gestionale. mi sarei dovuta occupare di seguire il soprintendente con cui avevo avuto la fortuna di lavorare per tanti anni, soprattutto per le produzioni editoriali perché Adriano La Regina era un grandissimo appassionato di editoria e quindi teneva molto che questa concessione generasse una collana archeologica sia specialistica che divulgativa di grande importanza. La ricordiamo molto bene, è molto importante poi questo lavoro sull'editoria e poi come è andata avanti. Perché io devo dire ai nostri telespettatori che Rosanna Cappelli ha seguito progetti importantissimi, grandi mostre ma grandi cataloghi e questi cataloghi li ricordiamo e fare l'editore è una professione vicina al patrimonio ma che mette insieme tanti saperi, è un po' il tema del momento insomma. Sì, l'editoria è un lavoro fantastico nel senso che riesci a realizzare immediatamente un prodotto che contiene al suo interno il sapere su quel tema, su quell'argomento e quindi è un'emozione che non finirà mai. Cioè l'idea che da un progetto di ricerca, da uno studio, da un saggio poi si possa realizzare in tempi relativamente così brevi un libro che resta per sempre e una sensazione di potenza, di potenza appunto della conoscenza che veramente non ha uguali. E infatti diciamo ci piace almeno a noi che lavoriamo in ELECTA immaginare che anche le mostre diciamo che poi si sono affermate in Italia anche come attività autonoma diciamo separata dall'editoria debbano invece tornare a riacquistare un approccio editoriale perché l'editoria in fondo è un'organizzazione di contenuti, cioè la forma editoriale dà forma ai contenuti della ricerca e quindi anche le mostre, noi oggi stiamo diciamo anche diversificando le mostre perché forse in Italia c'è stato un abuso e una ricorrenza di mostre sempre dello stesso soggetto, sempre dello stesso argomento per attrarre il pubblico e occorrerebbe restituire anche alle mostre italiane quell'approccio interdisciplinare che spesso hanno avuto solo le mostre francesi, ad esempio nella connessione tra l'arte e la letteratura. Noi stiamo lavorando a un grande progetto per il centenario di Italo Calvino e ci piacerebbe far diventare le mostre di letteratura delle mostre blockbuster come sono oggi quelle dell'arte. Quelle dell'arte, beh è molto interessante. Il passaggio all'alta dirigenza in genere comporta il fatto che bisogna un po' trascurare le proprie passioni di studio e occuparsi di gestione del personale, conflitti, amministrazione di budget. Come ha vissuto questo progresso, insomma, questa trasformazione del quotidiano? Io ho abbastanza con entusiasmo, nel senso che quando sono stata assunta in electa nel 2001, dopo un periodo di incertezza se farmi assumere o non farmi assumere, perché avevo paura di perdere quello spirito di libertà che comunque mi aveva consentito di lavorare, di sopravvivere anche senza un vincolo di dipendenza, ho sperimentato un gruppo di lavoro fatto esclusivamente da archeologi storici dell'arte. Abbiamo una sola economista all'interno della casa editrice electa, ma come io ogni tanto sorrido nel dire che è un'economista pentita, perché in realtà vorrebbe essere oggi un archeologo o una storica dell'arte. La sperimentazione è riuscita, ho imparato a fare di conto e questo mi ha anche entusiasmata, nel senso che ho capito che sarebbe stato uno strumento anche quello di libertà, nel senso imparare a fare di conto per poter lavorare in maniera autonoma e indipendente e adottare le scelte che uno vuole fare. Portare alla fine i propri progetti senza pasticci, cioè far quadrare i conti. Riuscire a realizzarli. A riuscirne bene dai progetti, portarli alla fine. È un talento e infatti appunto io ammiro queste persone e quando parlo con gli studenti, che mi capita di insegnare, ho sempre dedicato una lezione alle figure di leadership nell'ambito culturale, perché la cultura ha delle peculiarità nelle figure guida e una parte di queste persone, cioè ci sono quelle persone sempre nella ribalta mediatica e ci sono quelle persone che hanno un ruolo importantissimo, che non sono conosciute al grande pubblico e forse anche questo piccolo strumento aiuta, come è stata la sua figura, magari non sempre in televisione o sui giornali, ma con un lavoro costante che ha lasciato un segno, insomma, sicuramente nella nazione. E fare questo mestiere oggi significa creare occupazione e soprattutto occupazione giovanile, occupazione femminile. È appena uscito un libro curato da Antonio Taormina che tratta dell'occupazione nel campo culturale e credo che sia la cosa più bella nel fare questo mestiere quando fa sì che persone che studiano il patrimonio con passione, mentre magari suggerisce di fare lavori più redditizi, poi trovano un lavoro e quanti talenti ha seguito nel suo vivaio e quanti magari vuole ricordare, insomma, che hanno... Beh, noi oggi siamo 45 dipendenti in casa editrice. Ovviamente apparteniamo all'interno di un grande gruppo editoriale per cui abbiamo all'interno di Lecta esclusivamente le attività dirette, le attività proprie, mentre per tutte le funzioni di staff ci sono ovviamente gli uffici di staff del gruppo Mondadori. Quindi, diciamo, abbiamo la fortuna di essere all'interno di un'impresa molto grande, molto solida, che quindi ci consente anche quell'autonomia e quella serenità, ad esempio adesso di sopravvivenza dopo il Covid, che certamente è stato un momento... E le persone che, diciamo, che ho avuto la fortuna di avere come collaboratori sono, come dicevo, di formazione quasi esclusivamente storica dell'arte, di storia dell'arte o di archeologia, ma hanno, credo, imparato e hanno seguito con grandissima passione e con grandissima disponibilità questo processo di trasformazione del fare culturale in Italia. Un processo di trasformazione che negli ultimi vent'anni è stato molto, molto significativo, molto significativo. È proprio sul segno della interconnessione dei saperi, che credo sia proprio la svolta futura. Credo che la cosa più importante oggi per crescere in questo mestiere è quello di non restare iper specializzati, ma aprire un po' lo sguardo ad altre discipline. E immagino che nel suo lavoro, anzi l'ho visto con i miei occhi, insomma, e l'ha raccontato oggi, questa è la pratica costante. Sì, e anche rendere, diciamo, contemporanee, nel senso proprio, discipline che possono appartenere a mondi lontani, soprattutto l'archeologia da questo punto di vista, ha bisogno di trovare una sua dimensione nel presente. E quindi, senza voler esagerare nell'associare al mondo antico delle categorie del sapere o del sentire contemporaneo, certamente c'è bisogno di, diciamo, avvicinare il patrimonio archeologico alle comunità e alle città e ricostruire con questo patrimonio archeologico un legame d'affezione, un legame sentimentale che spesso i turisti, diciamo, hanno sottratto alle città. Sì, trovare un aggancio con la vita delle persone, questa è la chiave. Io ricordo queste grandi mostre, per esempio l'ultima che mi ha entusiasmato è quella di Fornasetti a Palazzo Alte, anche lì tanti saperi mischiati, insomma, e anche un impatto molto forte. Fare operazioni editoriali, testi, significa invitare persone a scrivere, fare le mostre, significa invitare non solo gli artisti, ma anche allestitori, anche mano d'opera, ma anche architetti, eccetera. La nostra vita professionale è fatta di grandi incontri, lei ha parlato di La Regina, ne vuole citare altri, di incontri che hanno accompagnato il suo cammino in questo lavoro? Ma adesso non vorrei, diciamo, far torto. Io veramente ho avuto la fortuna di avviarmi in questo cammino con due grandi archeologi. Uno l'ho sposato, e quindi, diciamo, è stato, ed è l'amore della mia vita, Pietro Giovanni Guzzo, che è stato sovrintendente a Pompei, che oggi è in pensione, e che è stato per me, oltre, diciamo, che mio marito, ha dato ai suoi inizi una figura di riferimento proprio per il rigore con cui ha esercitato il suo mestiere di sovrintendente. Adriano La Regina è stato un sovrintendente eccezionale perché è riuscito, in tempi veramente non sospetti, quando il patrimonio archeologico era, diciamo, un interesse di minoranza rispetto alla politica, è riuscito invece a portarlo al centro della politica nazionale. E in questo, diciamo, è stato veramente un precursore dei tempi. Poi ho incontrato grandissimi direttori, grandissimi sovrintendenti, grandissimi curatori, grandissimi storici dell'arte. Da ultimo, vorrei citare Esther Cohen, che è anche diventata col tempo una mia cara amica, con cui abbiamo fatto questo progetto di Alberto Sevigno a Palazzo Althems, che proseguiva un po' quella ricerca, diciamo, di unire il contemporaneo e un certo filone del contemporaneo surrealista, Fornesetti prima e Sevigno poi, alla collezione di sculture antiche di Palazzo Althems. Bene, io sono veramente pieno di gratitudine perché ha trovato il tempo di chiacchierare con noi su questa vita così veramente spesa, tutta, a costruire il progresso culturale di questo paese e quindi veramente la ringrazio del tempo che ha trovato per noi e saluto i nostri spettatori dando appuntamento al prossimo incontro. Grazie a tutti.